Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video unboxing riguardante il sito Amazon. L'ordine è impiegato ad aggiungere la destinazione due giorni dal momento dell'ordine, in quanto il pacco è stato pagato con Amazon Prime, che quindi consente una consegna rapidissima in uno o due giorni lavorativi. Il corriere usato da Amazon è l'SDA. L'ordine riguarda una microSD di marca Qmox da 32GB. Andiamo ad aprire il parco. Questa è la microSD, nello scatolo originale Qmox 32GB. In dotazione c'è anche l'adattatore per fotocamere. Questa microSD permette di registrare filmati in Full HD, perché è dotata di un'alta velocità. Questa è adatta in particolare per le Action Cam. Io l'ho presa per la Action Cam SGI 4000, della SJ Cam, che vi mostrerò in un altro unboxing. e andiamo ad aprirlo. Anzi, vediamo qui le caratteristiche sul retro. Porta Quello italiano, un giga di già quanti byte corrisponde. Una determinata quantità di capacità potrebbe essere utilizzata per la manutenzione per la manutenzione per i file di sistema. La velocità di trasferimento è basata sulle condizioni di testing interne effettuate. Non dice niente di che. Comunque è una classe 10 UHSI-1 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 Ok, apriamolo. Mussolini di testo di posti del pai del Penci UHSI-1 Numproncura Porta GPS Ok, qui c'è una scatolina in plastica trasparente e dentro il micro sb, Qmox, micro sd, hc1, 32 giga, classe 10 in basso a destra. Vediamo il retro. Vabbè, c'è il ship e questo invece è l'adattatore, il semplice adattatore con la marchio Qmox e il retro. Quindi la micro sd va inserita qui e può essere usata come sd. Ok, questo è il prodotto ordinato. Come al solito, se vi interessa, vi lascerò il link nelle informazioni del video in basso. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e se non siete ancora iscritti al canale vi consiglio di farlo, così resterete sempre aggiornati sui nuovi unboxing che usciranno riguardanti Amazon e molti altri siti riacquisti online. Per il video di oggi è tutto, alla prossima! Grazie! 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 Grazie!